Queste giornate della protezione civile trentina, nelle quali la protezione civile si mette in mostra, ecco questo è il punto, la protezione civile normalmente opera senza esibizione, opera quando serve. Mi pare molto bello invece che per i cittadini ci sia la possibilità di vedere i mezzi, di conoscere le persone e di capire la complessità del lavoro. Questa è un'occasione per i trentini anche per riflettere su di noi, perché noi trentini siamo, credo, unanimemente orgogliosi della protezione civile e però il modo migliore per onorarla è quello di essere cittadini attivi e responsabili, che significa sapere che cosa fare in caso di calamità, ma soprattutto agire responsabilmente di fronte all'emergenza climatica, quindi con azioni di contrasto, di mitigazione, perché davvero lavorare per un territorio che sia il più sicuro possibile, ripeto, il modo migliore per onorare la nostra protezione civile.